Questa mattina a Misti ha cessato la firma dal notaio e proprio all'uscita avevano detto adesso aspettiamo una risposta sul campo che c'è stata subito. Ha avuto modo di parlare con la Cava? Adesso sono venuti dentro, però è tutta la settimana che ci hanno passato messaggi positivi di qualcosa di vero, di buono, di una continuità. Ma è chiaro che per noi adesso diventa tutto, cioè chi ha un contratto plurinare diventa la possibilità di mantenerlo, chi è in scadenza si può giocare una possibilità. Sono tutte motivazioni molto forti e poi siamo di fronte a una cosa storica. Noi stiamo facendo una cosa assurda, forse con gli anni ci penseremo a quello che stiamo facendo e quello che sta facendo questa squadra, è quello che ha fatto tutta la città di Arezzo, veramente tutta la città. Guardando ovviamente c'è l'ultima partita, poi eventualmente il play-out, quello che sarà, però ecco, una società così può dare lo stimolo anche a Massimo Pavanel per ragionare? Ma io credo che possa dare lo stimolo a qualsiasi allenatore perché Arezzo è una grande piazza e quindi credo che uno per allenare qua ci vieni anche a piedi, non c'è il discorso di Pavanel o non Pavanel. Arezzo è una grande piazza. Da quel comunicato che leggesti il sabato in sala stampa oggi, chiaramente ancora manca l'ultima partita che sarebbe la ciliegina sulla torta, ha raggiunto l'obiettivo. Com'è scattata quella molla nello spogliatoio? Che mesi avete passato? Ne approfittiamo visto che ci state qui ora in questo momento perché insomma di giocatori non ne sono venuti tanti rappresentativi a parlarne. Noi anche in quel periodo cerchiamo di parlare il meno possibile perché ne abbiamo sentite anche troppo. quindi quando parli tanto si è visto anche i risultati quando arrivava il giorno della scadenza e c'erano le partite vicino e bene o male il pensiero andava anche a quello e quindi la partita non riusciamo a dare quello che potevamo dare. Nel senso di responsabilità che ha avuto un gruppo intero grazie anche al lavoro che è stato fatto dal di fuori dai ragazzi che ci hanno sempre sostenuto in curva e sono sempre venuti anche fuori casa quindi anche per loro è una cosa che ci ha unito tutti e tutti insieme stiamo inseguendo questo sogno che sarebbe veramente la ciliegina sulla torta perché ce lo meritiamo tutti a partire da noi giocatori, dallo staff e soprattutto anche i tifosi. Ti era mai capitato in carriera una situazione così con i tifosi così attaccati a voi e la squadra così unita ai tifosi? Beh sì però quando c'erano risultati cercavi di lottare per qualcosa di più importante anche se nella mia carriera non è che ho mai lottato per chissà quali traguardi però sicuramente anche il saluto che abbiamo fatto oggi è a pensare all'ultima dei campionati dell'anno scorso che è totalmente l'opposto avendo anche 20 punti di più non mi ricordo quanti quindi questo si vede da quello che stiamo facendo, che abbiamo passato noi e che stavano passando loro quindi mi ripeto sarebbe giusto per tutti finire in bellezza. Non è ancora finita ecco, purtroppo tutto quello che stiamo facendo non dipende solamente da noi non dipende da noi sul campo, non dipende da noi sugli altri campi e chiaramente non dipende da noi nelle aule giudiziarie perché se abbiamo pagato noi devono pagare anche gli altri chiaramente... Scusa, non serve però aspettiamo tanti tifosi a Carrara, che dici? Per finire in bellezza? Beh no È chiaro